a Rosario Clefari, grazie mille, grazie del cuore, grazie a te onorati di questa bella sorpresa, di questa bella presenza ora signori siamo pronti per affrontare ancora una volta un nuovo capitolo di festa all'interno della rotonda del festival una rotonda che sta vivendo davvero la grande, avrete visto insomma in queste settimane che di gente ce n'è veramente tantissima le sorprese non possono assolutamente mancare e non possono mancare anche questa sera dove abbiamo deciso di creare una party pazzesco in collaborazione con un movimento per a che fare con tanti registi dei realizzatori come chiamano loro dei realizzatori che hanno una media d'età intorno ai 35 anni loro sono veramente molto giovani, hanno tanta maglia di fare anche i due ragazzi che vedete qua dietro sono dei registi, hanno un sacco di maglia di farvi ballare è una serata davvero molto divertente, quella che ci si prospetta, vogliamo vedervi ballare vogliamo soprattutto farvi divertire in compagnia di questi bravi DJ che hanno a che fare con il mondo del funk dell'hip hop, insomma del divertimento come dicevamo R3 è presente, la RSI è come, ma soprattutto ci sono loro insomma, buon divertimento che sia la vostra serata da tutti i punti di vista perché in più c'è anche un'altra bella sorpresa subito qua, alle mie spalle, ci sarà un momento incredibile una cosa che abbiamo provato a realizzare con gli amici della SUBSI un corso molto particolare che dei ragazzi hanno voluto fare proprio qui in quel di locale io mi sono preparato un bigino e vi chiedo una grande collaborazione magari chi ha sentito già il nostro programma in diretta avrà capito che c'è molto bisogno del pubblico ebbene, loro, dicevamo, sono dei ragazzi che hanno voluto creare una sorta di interattività con quello che accade qui sul palco con i nostri DJ e quello che accade là dove siete voi in questo momento con il maxi schermo che abbiamo a nostra esposizione sono dei ragazzi che stanno concludendo il loro tragitto nel personale di comunicazione visiva e che mi chiedono di andare con il vostro telefonino su internet a questa pagina floatparty ripeto, f-l-o-a-t punto party schiacciate enter e trovate una pagina sulla quale potete scrivere tutto quello che volete e loro, in diretta, seguendo quello che succede su questo palco con la musica non vivo del DJ cercheranno di manipolare queste immagini che voi stessi manderete per vivere un momento unico su questo palco insomma, buona serata a voi grazie alla collaborazione con gli amici della SUBSI ma soprattutto grazie ai nostri DJ musica voi libero ci siete? siete pronti? allora gode l'attacco